Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro ArtCabber, siamo qui in quest'anno dei commentari. Attrice ha pubblicato un nuovo update per Xbox One e PC che ovviamente ci dà tutti i contenuti mancanti che erano su PS4 con l'operazione Days of Summer, quindi abbiamo il Gaunted Station Evil, le classifiche dei Gaunted comunque c'erano già la settimana scorsa, ma comunque adesso comprando ovviamente il Gaunted nuovo, abbiamo il nuovo Elisir, altri piccoli contenuti, anche le nuove armi ovviamente, e quello penso sia l'argomento più importante perché adesso passiamo invece ai contratti. Infatti Attrice ha dato qualche piccola informazione sul sistema dei contratti che presto arriverà su Black Ops 4 e ci ha rivelato appunto che questo sistema funzionerà su tutte le modalità, quindi multiplayer blackout e anche quindi zombie. Quindi questi contratti serviranno per ottenere delle ricompense in-game completando delle challenge giornaliere comunque che cambieranno appunto ogni giorno. Come già detto prima questo vale per tutte le modalità e penso che in tutte potremo ottenere spero ricompense diverse, quindi possiamo magari fare le sfide per tutte le modalità o magari soltanto una modalità, vedremo come lo sistemeranno. E' detto che in futuro verranno aggiunti altri weapon brides che è quello che si può ottenere al tier 25 che permette di ottenere o un'arma nuova o un'arma MK2 che non abbiamo. Con la cavità scrive una piccola preview e un piccolo esempio di come saranno fatti i contratti, in questo caso penso sia sul multigiocatore da giudicare dalle sfide che ci sono, e quindi speriamo che ci siano anche su zombie perché come potete vedere ci sono come ricompense gli XP, che sono comunque molto interessanti e molto comodi per tutti i giocatori e anche delle riserve, quindi questo sarebbe il metodo per i giocatori di zombie appunto per ottenere delle riserve con questo sistema di contratti. Questo permetterebbe comunque ai giocatori di zombie come noi di ottenere sia armi nuove, magari abbiamo molta fortuna dalle riserve, o comunque tutti gli oggetti che ci sono nelle riserve che siano anche quelli stupidi come sono degli sticker, delle metiche facciali, anche se soltanto giocano normalmente e non per forza dover aspettare di essere al livello massimo del mercato nero e poi facendo livelli successivi ottenere uno o due ricompense alla volta al giorno, che io l'ho fatto questi ultimi giorni con appunto gli ultimi giorni dell'operazione precedente, sono arrivato circa al livello 60 del mercato nero, quindi 10 riserve l'ho fatto e mi ho trovato due duplicati e del resto ho trovato forse una mia etica facciale per Bruno D9, per il resto sono tutte appunto sticker o altre robe che non mi interessano perché sono di multiceccatore e blackout, a cui non gioco praticamente mai. Per cui sicuramente un'ottima aggiunta, vediamo quanto presto lo metteranno perché questo sistema di contratti secondo me farà comodo per tutti quanti, perché avere riserve in più oltre appunto al sistema per i livelli oltre quello massimo del mercato nero sono molto molto utili e comunque le sfide non mi sembrano nulla di difficile perché a parte vinci 10 partite in dominio forse un po' più lungo, ma 50 kill di pistola mi sembra abbastanza tranquillo, quindi anche su zombie in realtà le sfide tutte si fanno molto molto in fretta, anche quelle più lunghe delle sfide giornaliere in massimo un'ora si fanno, sono quelle molto fatiche tipo kill 750 kill con una certa arma, ma ogni tanto quando ci sono 75 kill corpo a corpo si fa tipo a round 6, quindi sono veramente facili, e anche qua penso che teneranno sfide molto corte e sfide un pochino più lunghe, però sono sempre ricompense in più, XP in più, e sfide aggiuntive comunque da fare ogni giorno, che secondo me è sempre interessante e comodo perché chi vuol giocare a zombie veramente tutti i giorni vuole sempre qualcosa di nuovo da fare. Quindi io sicuramente sono contento di questi contratti, spero un pochino di avere fortuna magari nelle riserve di trovare un po' di armi nuove, appunto se devono aggiungere altri weapon brides per delle armi successivo, comunque queste qua che per adesso non abbiamo, farebbe veramente comodo. Già oggi ho comunque provato alcune delle armi nuove, tra cui il peacekeeper e il balistico nella casa, sono veramente forti, però appunto non potendole personalizzare nella merita, non avendole sbloccate, e non potendole trovare durante il mercato nero, ma soltanto il vendetta. È una weapon brides al 25 che spero magari mi dia il balistico perché sarei veramente interessato, ma le altre armi purtroppo come anche l'S16 Grey e il Locus rimangono un pochino indietro nella fortuna delle riserve, o a fortuna in generale giocando e basta, che è veramente veramente difficile perché sia comunque sono molto molto rare, penso che la percentuale sia veramente bassissima, sia inoltre con tutti gli altri oggetti che troviamo, e anche dei duplicati, è veramente difficile, è molto scoraggiante almeno a mio parere, per cui magari queste riserve un po' ci aiuteranno, sia per avere più riserve, quindi più possibilità, anche se sono molto basse, sia magari appunto per una weapon brides in futuro, che il problema è anche lì che ci danno delle armi MK2, che sono sempre utili su zombie bonus XP, però se magari con me siamo quasi al 1000 e non ci interessano troppo, preferirei un'arma nuova anche soltanto per poterla personalizzare, fare la dark matter anche su quella, o anche giusto per provare un'arma nuova con degli accessori. Fatemi quindi sapere ragazzi voi cosa ne pensate di questi contratti, se siete contenti appunto che ci sia un metodo in più per le riserve, o preferivate magari un metodo più diretto per sbloccare le armi, come appunto era il mercato nero, che secondo me rimaneva il momento migliore, perché comunque se facciamo anche soltanto 100-200 tier, però mi dai tutte le armi specifiche in un certo livello, almeno sono sicuro che giocando tanto le sblocco sicuramente, non per forza avere fortuna nelle riserve con queste weapon brides, che sono sicuramente una possibilità in più, quella non la rifiuto mai, però comunque anche lì molta molta fortuna. Spero come ho fatto ragazzi il video di oggi ti è piaciuto, noi ci vediamo al prossimo, un abbraccio, ala.